Fedez non è stato nuovamente bene ed è stato subito soccorso dall'ambulanza In molti si stanno chiedendo come stia adesso.Le condizioni di salute del rapper fanno preoccupare sempre di più gli italiani, dato che accade spesso che lui si recchi in ospedale per un malore Qualche tempo fa gli fu infatti diagnostico un tumore al pancreas e, da allora, c'è sempre stata molta ansia per il suo stato di salute Di recente, è stata al centro dell'attenzione anche la sua vita sentimentale, dato che il cantante è stato sposato con l'influencer Chiara Ferragni, da cui ha avuto i due figli Leone e Vittoria Nelle ultime ore è stata annunciata un'altra notizia inaspettata, il rapper è stato soccorso dall'ambulanza per un nuovo problema di salute Come sta Fedez, l'annuncio dello staff.Il cantante sta vivendo in questi un periodo non proprio roseo, dovuto alla separazione dalla moglie Chiara Ferragni e al problema di salute che lo sta perseguitando ormai da tempo Dopo la diagnosi di tumore al pancreas, ci sono stati diverse ricadute in questi mesi, ha infatti avuto varie volte delle emorragie interne che l'hanno costretto a un ricovero immediato ed urgenza Qualche settimana fa, è stato proprio lui a confessare quello che gli sta succedendo e, nel mentre, a dimostrare al pubblico di avere una grande forza d'animo che gli ha permesso di vivere appieno questa estate Sul suo profilo Instagram ufficiale, ha infatti pubblicato spesso video delle sue vacanze insieme a noti personaggi dello spettacolo, come Johnny Depp, e su gli edge che sono stati invidiabili da tutti Adesso, sull'aereo che lo portava a Gallipoli per un concerto al Praia, si è sentito nuovamente male e ad annunciarlo è stato proprio il suo staff Purtroppo durante il volo verso Gallipoli Federico non è stato bene, si legge sulla nota divulgata sul suo profilo social, è stato soccorso da un'ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati Per questo motivo questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praia di Gallipoli Ci scusiamo con tutti per l'inconveniente. Non ci sono al momento altre informazioni, ma si attendono di certo aggiornamenti sullo stato di salute del cantante, che ha sempre fatto divertire ed emozionare tutti gli italiani con la sua musica Numerosi sono stati i commenti scritti dai fan, che hanno fatto sentire tutta la loro vicinanza e il loro affetto nei confronti del loro idolo Grazie a tutti